Eccolo, eccolo, sta uscendo a destra, è tirato a Milano, eccolo, sta arrivando, sta arrivando, eccolo qua. Raffaele, è venuto dell'Inter, sta felice Raffaele. Un saluto all'interno dell'interno. Solo un saluto Raffaele, un saluto ai tifosi dell'interno. Un saluto. Sei felice di essere arrivato all'interno Raffaele. Solo un saluto, un saluto con la mano. Un saluto Raffaele, un saluto ai tifosi dell'interno di poi. Raffaele, almeno un Forza Inter, dai. Un Forza Inter. Un Forza Inter ce lo dici? Vai Raffaele. Grazie. Grazie.